Il ritorno a Gerusalemme del popolo di Israele dopo i lunghi anni di deportazione. La prima lettura della liturgia odierna ha fatto da sfondo all'omelia di Papa Francesco durante la missa celebrata a Santa Marta. Il pontefice ha rimarcato che la gioia del Signore è la nostra forza e la nostra identità e che la nostalgia di Dio permette poi al nostro cuore di fare festa. Se noi, ad esempio, siamo pieni di cibo, non abbiamo fame. Se noi siamo comodi, tranquilli, dove stiamo, non abbiamo bisogno di andare altrove. E io mi domando. E sarebbe bene che tutti noi ci domandassimo oggi. Sono tranquillo, contento. Non ho bisogno di niente. Spiritualmente parlo del mio cuore. La mia nostalgia si è spenta. Guardiamo questo popolo felice, che piangeva e era gioioso. Un cuore che non ha nostalgia non conosce la gioia. E la gioia proprio è la nostra forza. La gioia di Dio. Un cuore che non sa cosa sia la nostalgia non può fare festa. E tutto questo cammino che è incominciato da anni finisce in una festa. E' un cuore che non sa cosa sia la nostalgia. E' un cuore che... Grazie a tutti.